Arrivi. Pronto, pronto, uno, due, pronto, uno. Prova, prova, senti. Perfetto, grazie. Pronto, pronto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Comincio. Buonasera a tutti, grazie di essere in termini ultimi, malgrado, come dire, le previsioni del tempo, incrociamo le dita e ho davvero il piacere di poter avere al mio fianco, Margherita Gero, che è la prima volta, diciamo, quasi in una sorta di esclusiva, è venuta qui a San Michele a questi incontri. Ci siamo parlati un po' a lungo, perché è inutile che ci diamo del lei come fanno alla televisione, noi siamo diventate molte amiche e io sono molto grata perché, insomma, arrivare fin qui non è semplice. No, 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 intanto, buonasera, grazie di essere qua. Non è che arrivo dal Tibet. No, da Torino, però. Voglio dire, non è semplice, sembra, dice, stava l'Asa, poverita. È dovuta venire. No, ma non è semplice, nel senso che... Sì, nel senso che non sto benissimo, insomma. Esatto, esatto. E quindi le sono davvero gratissime. Volevamo anche all'inizio raccontare un po' di questa amicizia che ci lega e una sorta di introduzione anche al modo con cui in questi anni la nostra amicizia si è evoluta e poco fa ci chiedevamo se assomigliamo di più a Jack Lemmon o cosa abbiamo deciso... Totò e Peppino. Ormai siamo davvero come Totò e Peppino. In un libro molto bello di Margherita, perché questi suoi libri che hanno... Sembrano scritti leggere, eccetera, ma affrontano poi dei temi importantissimi, la dedica che mi era stata fatta e che, come dire, ha saldato il nostro rapporto era amica per inadeguatezza. Perché la... come dire... No, amica per inadeguatezza, sembrerebbe no. Era amica di aneguatezza, cioè compagna di aneguatezza. Ecco, questa nostra amicizia è proprio invece sigillata da questo fatto che noi non sappiamo fare un sacco di cose e ci ritroviamo e alla fine abbiamo anche una teoria che non è ancora comprovata, in realtà siamo gemelle divise e ogni volta poi che leggiamo sui giornali e ci divertiamo tantissimo tutti questi attacchi hacker che subiscono la CIA, eccetera, i nostri telefoni da molti anni, cioè proprio sul telefono, ci fanno della sorta di dispetti. Quindi direi che l'ironia e l'autoironia è un po' il legame più forte. Un legame ancora precedente, diciamo, noi eravamo amiche anche già da prima perché abbiamo avuto in comune la mia insegnante delle medie, Luisa Sturani, che qui voglio ricordare, era la sua amica che, mandando il manoscritto ai Mondadori, è stato pubblicato il primo libro, il primo romanzo. E quindi è come se ci fossero tante storie alle spalle della scrittura. Io appunto raccontavo prima quando facevo scouting di autori, ho sempre voluto, ho pensato, mi sarebbe piaciuto avere come autrice Margherita Gero, Inarrivabile, e avevo fatto uno dei miei... Non dire Inarrivabile perché sembra che io non volessi pubblicare con te. No, no, ma Inarrivabile, no, perché ci sono tutti questi meccanismi editoriali, eccetera, eccetera, e per cui insomma il solo fatto che avessi tentato, il Mondadori si sono arrabbiati tantissimo, e la sua editor pura, io così una leggera punizione, però quando ci siamo ritrovate a questa cena, perché poi tutte e due in imbarazzo, perché appunto io avevano detto mai più, lo Gero non si tocca, e a lei avevano detto, se vedi la Melossi uccidila, e alla fine di questa cena, mentre ci mettevamo il cappotto, io gli ho detto, dicono, sappiamo benissimo cosa è successo con questa mia mail, dico però a me, come autore, mi va bene, rimani dove sei, però vorrei averti sempre amica. Questo per spiegare che ci sono anche dei rapporti che vanno oltre, e sempre tra i legami, che insomma Luisa Sturani era molto amica di Natalia Ginsburg, che è stata una delle mie autrici quando ero in Einaudi, ma soprattutto anche oggi pensavo, e non ho avuto tempo di dirtelo, che nella scrittura tua c'è questo eco di questa finta semplicità di Natalia, soprattutto un romanzo poco letto che è La città e la casa, che è quasi un romanzo fatto di dialoghi come i tuoi. La critica di Margherita la lega molto a, diciamo, Fruttero e Lucentini, per quello che riguarda sia appunto questa scrittura, sempre sul velo dell'ironia, e soprattutto mentre Fruttero e Lucentini hanno raccontato la borghesia torinese, devo dire che invece Margherita è, si può dire, cantrice, delle periferie, ma periferie vere, nel senso perché Margherita poi vi racconterà, abita in Porta Palazzo, che è una delle zone che è sempre al centro dei vari racconti, e lei ci vive benissimo, stiamo bene quando ci troviamo, non c'è mai successo nulla, eccetera. E l'altra cosa che, prima di entrare appunto nel merito del libro, è anche proprio per raccontare questi meccanismi dell'editoria, Margherita ci tiene tantissima alla lettura, al fatto che sia importante leggere, e mi ha insegnato questo. Io molto spesso, per fortuna in questi ultimi anni, l'accompagno alle presentazioni, e se lei deve decidere se andare al circolo dei lettori, o in posti, quelli che propone lei hanno sempre due, o sopra o sotto, sotto Bosco di sopra, San Petro in Leme, eccetera. Bene, lei ha un, non so come dire, una militante della lettura, di, diciamo, vai in questi posti dove magari c'è una bibliotecaria che ha messo insieme le maestre, io credo che quasi tutte le tue lettrici le riconosci nei posti dove vai, dove... C'è proprio una sorta, vi assicuro, di passaparola, perché Margherita è proprio generosa di questo suo rapporto che ha con il pubblico e delle sue elettrici. Posti molto meno, come dire, prestigiosi, che non questo. Esatto, vabbè, qui siamo già nel pop. Posti sperduti nelle valli, però io trovo più proficui questi incontri, nel senso di generare desiderio di leggere, che non magari nelle istituzioni preposte a questo, dove tanto ci sono già persone che comunque leggerebbero comunque, o che comunque non hanno bisogno di inviti, insomma, alla lettura. Invece il seminare, il seminare dove non c'è, non c'è già vegetazione, insomma, dove non c'è già il parco, ma dove c'è proprio il terreno brullo. Ecco, e questo poi mi dà in modo di ricordare una persona che è mancata l'anno scorso, un amico carissimo, una persona con cui avevo cominciato a lavorare dai naudi ai tempi della letteratura italiana diretta da Zorosa, che è Luca Serianni. Se andate su internet trovate dei suoi interventi. Luca Serianni ha, come dire, è stato direttore, presidente dell'Accademia dei Lincei, ma ha tenuto per un certo periodo delle lezioni di letteratura, non mi ricordo più a quale uscita, di metropolitana, di, me ne ero anche scritta, di Roma, e così come aveva fatto delle letture dantesche in una parrocchia sempre di Roma. E questi, voglio dire, proprio questo amore della lettura mi commuovo a ricordarlo perché ritrovo molto in Margherita. E sempre, chiudendo con un racconto che vi fa un po' ridere, andando in questi luoghi, a pochi, a 20 chilometri, noi siamo abituati a pensare a Torino, Milano, Roma, Bologna, l'Italia è molto diversa, a 20 chilometri da Torino possiamo raccontare un'avventura che da quando mi ha coinvolto Margherita cerco di non mancare. Vuoi raccontare tu? Quello del pianoforte. Ormai abbiamo un repertorio come... Allora, c'è un paese... Non diciamo il paese. No, non lo diciamo. Il paese non lo diciamo. C'è un paese, insomma, nelle vicinanze di Pinerolo, però in collina, Pinerolo è un paese abbastanza ricco, eccetera, però questo paese di cui parliamo ma non diciamo il nome è incredibilmente per reddito relativamente alla... Non per numero di persone, ma relativamente alla tipologia del tipo di paese. Insomma, il terzo paese per reddito è l'Italia. Vabbè. Dove però è terra bruciata, sono soldi, 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 però non c'è nient'altro se non un centro polivalente. Lei voleva che raccontassi questo, lo racconto perché è talmente bello. Allora, sono andata in questa primavera a presentare il libro e c'è un palcoscenico che sembra quello della scala, tanto è grande, vasto, tant'è che prima dell'incontro c'era un pianoforte a gran coda, quindi non a coda, a gran coda che vuol dire che tiene metà del palcoscenico con un ragazzetto che suonava per introdurre l'incontro. Il ragazzetto era un po' inquietante ma comunque io non ho orecchio musicale però insomma qualcosa uno non essendo proprio sordo capisce. Alla fine dico all'organizzatore senti ma questo pianoforte non avrebbe bisogno di una piccola accordatina perché è un suono un po' strano dice certo che è un suono strano non è mica un pianoforte fammi capire com'è che non è un pianoforte sì è solo una tastiera appoggiata sopra la finta tastiera che non c'è del pianoforte ho detto non capisco dice ma il pianoforte è finto l'ho fatto io di compensato ecco allora immaginate un ambiente di questo tipo in cui siccome il pianoforte è pesante da spostare però ci vuole il pianoforte perché il pianoforte è di gran coda è una cosa prestigiosa allora si fa un pianoforte finto di compensato io lo trovo straordinario secondo me sono quelli i posti in cui devi andare a seminare un po' se vogliono leggere perché forse imparano qualcosa qualcuno in questo posto nel centro polivalente c'è sempre uno che durante le presentazioni gioca ping pong c'è sempre ting ting sembra sullo sfondo allora veniamo al libro di questa sera che ci permette comunque anche di fare divagazioni Brava gente è un libro politicamente scorretto e anche un po' controcorrente cominciamo dal titolo perché brava gente chi sono beh questo libro è ambientato in una periferia torinese ed è la periferia più disastrata di Torino proprio quella che Renzo Piano ha detto che non è mai stata rammendata e a me è piaciuto molto questo participio passato vabbè questo aggettivo participio passato perché in effetti il rammendo è un'operazione lenta ma è anche un'operazione che restituisce dignità all'oggetto immagino una coperta da tovaglia che rammenda è molto più rispettoso dell'oggetto di quanto potrebbe essere una toppa ecco questa periferia torinese non è mai stata rammendata ed è la periferia torinese che ha conosciuto più immigrazioni la prima immigrazione alla fine dell'ottocento quando per un problema di dogane la Francia non aveva aveva messo dei dazi fortissimi al riso proveniente dal dall'area del riso insomma dal da Chivasso grosso modo sino a Novara per quanto riguarda il Piemonte e allora molti contadini erano abbraccianti agricoli intendiamoci perché c'era il latifondo nella risaia molti braccianti agricoli erano stati mandati via perché il contratto per i braccianti agricoli era di un anno da un San Martino all'altro San Martino che poi è diventato proverbiale perché si dice andare fare San Martino per dire a darsene insomma e quindi si erano riversati la parte più vicina a Novara si era riversata verso la Lombardia e l'altra parte invece più vicina diciamo da Vercelli eccetera si era riversata verso Torino questi sono stati i primi immigrati diciamo dal contado come si diceva una volta non accolti con grandissima benevolenza perché il fenomeno dell'immigrazione si ripete in modalità quasi sempre uguali tant'è vero che per loro era stato coniato un termine che era PACU che voleva dire gente grossolana eccetera insomma poi naturalmente stiamo parlando della fine dell'Ottocento c'è la grande nascita dell'industria in città e quindi l'integrazione è facile insomma perché quando c'è lavoro si soppiscono tanti pregiudizi e tante differenze cioè perlomeno si sorvola su tante differenze la seconda immigrazione è stata di nuovo dei Veneti negli anni 20 quando una parte il Veneto tendiamo a dimenticarlo ma era una delle era la regione più povera d'Italia quella in cui ancora negli anni 50 50 si moriva di pellagra cioè di alimentazione più che insufficiente priva di proteine sostanzialmente seconda immigrazione veneta ha toccato vabbè l'area dell'agropontino che è stata benificata quella che è raccontata in quel bel libro che è il canale canale Monsolini e e l'altra parte invece ha di nuovo preso la strada Milano Torino tra l'altro i Veneti erano chiamati all'epoca i bisnenti che voleva dire quelli che hanno due volte niente quelli che facevano questo questo viaggio poi verso l'America eccetera anche questo è raccontato in un libro bellissimo uscito da poco che è Piero fa l'America in cui si narra si narra una vicenda meno nota perché la gran parte dei Veneti emigrarono verso l'Argentina di fatti molti cognomi ancora degli Argentini che discendono da questi sono proprio cognomi Veneti però c'è anche una piccola parte che era immigrata in Brasile forse aveva trovato ancora più difficoltà perché naturalmente la lingua era già più difficile da capire eccetera comunque la seconda immigrazione veneta è quella degli anni venti e poi c'è una terza quella del 1953 dopo l'alluvione del Polesine insomma quindi a noi adesso fa ridere l'idea di parlare di immigrazione da una regione d'Italia all'altra ma allora non faceva ridere per niente nel senso che si sentivano quelli che immigravano cioè che immigravano dal loro luogo a un altro si sentivano sgraditi in qualche modo e quelli che li accoglievano non è che li accogliessero proprio con grande cioè c'era sempre lo scherno c'era sempre il mettere in ridicolo poi c'è stata la grande immigrazione dal centro sud insomma anzi da quella che al nord era definita non tanto per ragioni di latitudine ma anche qui c'era un senso di superiorità quelli che venivano dalla bassa Italia cioè anche qui l'aggettivo dice qualche cosa e questi si sono poi integrati questi che provenivano da varie regioni non da una sola si sono poi integrati perché era l'anno del grande boom delle automobili erano gli anni del grande boom dell'automobile erano gli anni in cui l'economia italiana era una delle più forti tendiamo a dimenticarlo ma negli anni sessanta l'Italia ha vinto l'Oscar delle monete che vuol dire la lira forte la lira fortissima cioè se tu andavi all'estero e cercavi poni non so mi ricordo in quegli anni ero andata in Turchia avevo contrattato l'uomo un'ora e mezza un tappeto che mi piaceva particolarmente vabbè è un rito comunque alla fine ci accordiamo sul prezzo tiro fuori il portafoglio per pagare siamo negli anni in cui le carte di credito eccetera 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 sembra di parlare del medioevo ma sono poi gli anni se sa il venditore vede che io avevo le lire nel portafoglio oltre ai dollari e mi dice se me lo paga in lire io lo sconto del 10% pensate l'evoluzione neanche in un secolo perché anche se sono molto vecchia però non sono ancora secolare insomma poi questa immigrazione ha cominciato questa relativa concordia cioè relativa accettazione relativa perché una delle frasi che si dicevano abitualmente a Torino e credo anche da altre parti conteneva una congiunzione avversativa che era Alè in Napoli perché erano chiamati tutti inistintamente Napoli da qualunque regione venissero Alè in Napoli ma 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 Alè una brava persona che mi sembra che la dica molto sullo stato dell'accoglienza e poi è arrivata la grande immigrazione extracomunitaria insomma in qualche modo l'immigrazione o dall'area del Nord Africa tutti generalmente sono marocchini cioè nella percezione possono essere tutti insidi possono essere algerini eccetera però sono marocchini nella percezione comune oppure dall'Africa subsahariana e allora quelli sono i neri solo da poco si dice di colore però prima si diceva anche di non di peggio perché da noi in realtà in realtà bisogna dirlo la parola negro fino a un certo punto storico non aveva nessuna connotazione negativa era in America che negro voleva essere cioè era connotato negativamente da noi si diceva Alain Moru io sono dialettofona e quindi poi ti faccio una domanda alla fine sul dialetto Alain Moru se si voleva aggiungere una connotazione superiore si diceva Alain Moru Neir che voleva dire un moro nero come se ci fosse sì ci sono anche i neri bianchi comunque allora questa periferia che è quella che ha accolto più immigrazioni adesso è l'area più disastrata di Torino più disastrata dal punto di vista dell'ordine pubblico più disastrata dal punto di vista della sicurezza più disastrata dal punto di vista in genere delle condizioni di vita proprio perché sono cambiate tantissime cose che tutti quelli che sanno insomma che leggono che vedono almeno la televisione sanno che ci sono delle cose che fino a 30-35 anni fa non c'erano non c'era la rivoluzione digitale non c'erano i grandi ipermercati diciamo c'era la tenuta degli esercizi di quartiere insomma e soprattutto poi c'era dal punto di vista sociale la tenuta di certe istituzioni educative la prima era la famiglia la seconda era la scuola seconda adesso dico in ordine di tempo la scuola gli oratori le palestre eccetera eccetera tutto questo ha perso un po' di significato nel senso che la famiglia non ha più il compito non si attribuisce più molte famiglie perlomeno quelle delle aree sempre più difficili non si attribuiscono più il compito educativo la scuola insomma un discreto fallimento posso dirlo con ragioni di causa avendoci insegnato proprio in questa barriera perché era di elezione per me per tanti decenni praticamente e poi tutte le non so gli scout le scuole di partito le sezioni di partito non hanno più avuto questa influenza educativa e quindi in quest'area che era già un'area di forti contrasti è un'area adesso che si dice di brava gente con senso ambivalente cioè di gente che in parte sta sul lato della legalità ma in buona parte non ci sta oppure ci sta sul limite sul filo del rasoio insomma con un piede di qua e l'altro di là quindi è una storia se vogliamo di piccola delinquenza media delinquenza ma non solo di piccola e media delinquenza perché non è che sia proprio la periferia in cui hanno trasferito al catrazzo insomma ecco no quello che di questo libro ci sono tantissimi personaggi infatti anche graficamente l'editore adesso io mi cadrà tutto però c'è come una volta c'erano nei romanzi c'è un indice che Margherita ha chiamato come una locandina personaggi protagonisti con primari comparsi in ordine di apparizione poi c'è una guest star su cui ti farò una domanda e ci sono tantissimi personaggi è proprio un un sono 22 ma i contatti sì perché sono le 22 allora proseguo inadeguatezza va bene sono 22 perché sono le 22 e siamo a San Michele di Pagana e non abbiamo neanche bevuto pensa solo dell'acqua frizzante e comunque ci sono tantissimi personaggi per cui Valetto tenendo un po' tutte le fila ci sono poi dei personaggi che chiave oggi si direbbe Lio Narrante Lio Narrante direi che è Deborah Deborah con l'H detta Debbie che fa a 15 anni ha smesso di andare a scuola e propone alla mamma Linda che una volta invece era una signora insomma benestante di uccidere il padre Oreste che fa il camionista e questa diciamo che questa è la storia priori è la storia intorno a cui si muovono tutte le altre poi abbiamo la vedova Caterina Mazzacurati che è veramente questa signora anziana come tutte le anziane ha un figlio che cerca tutti i modi di trasferirla in un seato per appropriarsi dell'alloggio e lei ha un'idea di riscatto poi non possiamo dire di più di dire vabbè io mi appongo a tutte queste losche manovre e rispolvere a questo suo spasimante un antico spasimante che come dire con cui si mette Arturo si chiama io avrò dimenticato tutti i nomi però ci sono anche altri personaggi comprimari che è il mio preferito Florin Florin è un rumeno perché anche la lingua di questo romanzo è piena di è una sorta di slang in qualche modo che riporta nomi cacofonie eccetera che si ritrovano così quando io prendo l'autobus eccetera e proprio capiamo che siamo in un mondo molto diverso da quando io ero piccola però ci sono anche altri racconti per esempio Alba Chiara che ha una cartolibreria e al centro di una serie di trame e e poi ci sono ci sono queste descrizioni desolanti delle periferie torinesi non tutte non tutte ci sono quelle che patiscono come dire un po' il fatto di essere periferia però questa è la più disastrata spiego però perché racconto questa perché io ci sono sentimentalmente legata nel senso che subito dopo la guerra cioè durante la guerra la casa dei miei era stata bombardata quindi non era agibile alla fine durante la guerra e io ero stata affidata ai nonni e quindi quando poi siamo tornati in città dopo lo sfollamento io sono stata a casa dei nonni perché i miei avevano potuto salvare solo i mobili e abitavano in una specie di magazzino quindi mi avevano lasciata con i nonni perché ero un po' più comoda quindi ci ho vissuto ho frequentato l'ultimo anno diciamo di asilo e la scuola elementare poi ci ho insegnato per tanti anni proprio nella parte più desolata che non era però ancora così desolata di questa periferia e poi perché sostanzialmente adesso dico una cosa che non so è difficile da capire però lo so che piazzetta reale che piazza carignano che insomma i luoghi topici di torino sono belli non è che sia così cieca o anche proprio stupida da non capire la bellezza di questi luoghi però a me piacciono le periferie abito vicino a Portapalazzo che se si insomma chissà un po' che cos'è che è il più grande mercato alimentare di torino forse uno dei più grandi ed è d'europa insomma non è proprio un posto per per dame come posso dire per dame con tanti cognomi esatto torino bisogna averne tre comunque tra tutti i personaggi l'ultima c'è scritto proprio guest star Lara Turner Lana Turner diva di Hollywood e qui faccio una domanda perché nei tuoi libri è presente tantissimo il cinema e tu hai parlato adesso dei tuoi nonni siccome ci siamo un po' accordate che volevamo un po' uscire anche dal limite del libro perché non vogliamo raccontare la storia vorrei che Margherita vi raccontasse questa pregevole educazione che ha avuto dal nonno quando aveva anni 5 giusto? sì dagli anni 5 fino agli anni 13 praticamente quando poi sono rientrata sotto la diciamo giurisdizione paterna quindi allora mio nonno era un accanito cinefilo e dopo la guerra era diciamo felicissimo perché non c'era solo non c'erano più soltanto le proiezioni dei film italiani o comunque di regime eccetera ma entrava il grande cinema hollywoodiano che era stato proibito durante il fascismo cioè praticamente tutto quello che veniva dall'America era vietato e quindi io dall'età di 5 ai 13 anni sono andata tutte le sere al cinema con mio nonno cioè tutte le sere lunedì il martedì il mercoledì il giovedì il venerdì sabato e domenica no perché c'era troppa gente anche perché il cinema all'epoca era il grande divertimento il divertimento comune non c'era ancora la televisione e quindi era la radice del divertimento ma era anche un divertimento collettivo che è diverso dallo stare a vedersi Netflix sì ma io penso a questo nonno con questa bambina che tutte le sere vabbè era un'educazione eccentrica difatti mio padre non era che fosse molto contento però siccome praticamente mi avevano come dire non abbandonata perché lo vedevo li vedevo però mi avevano sistemata lì non era che potesse neanche dire granché ed era un mondo che io ricordo con molta nostalgia intanto perché queste sale di periferia di nuovo le predilezioni che erano fumosissime fumavano tutti poi andando allo spettacolo delle otto e mezza a parte che all'epoca si entrava ma anche dopo si entrava quando si voleva in sala non si entrava all'inizio dello spettacolo anzi era una meraviglia prendevi il film da metà cercavi di capirne qualche cosa arrivavi alla fine poi ricominciavi ne vedevi anche un pezzo di più di quello che avevi già visto prima per riuscire a mettere insieme la parte finale con la parte iniziale era anche un esercizio di intelligenza capisci i gialli poi non ti dico che meraviglia che tu vedevi la parte finale sapevi già tutto e poi scopri poi ti vedevi l'inizio e capivi ma scusa faccio ancora una domanda ma su certi film magari vietati ai minori beh sui film vietati allora le cassiere erano sempre donne perché intanto in questa periferia che era una periferia diciamo di sinistra grosso modo una periferia operaia o una periferia di mercati eccetera le donne erano molto più emancipate che non in altre aree della città cioè molte lavoravano fuori casa o anche in casa con mestieri che adesso non ci sono più praticamente cioè ci sono ma esercitati in altro modo non so le stiratrici le pantaloniste le camiciaie le burdeuse termine che non si sa cioè quelle che cucivano le suole alle tobaie delle scarpe con queste macchine semi-industria macchine da cucire di tipo particolare fornite dal datore di lavoro oppure una cosa che a me piaceva tantissimo andare a vedere erano le rimagliatrici era l'epoca delle calze di nylon le calze di nylon erano costose le calze di nylon si smagliavano però queste artigiane chiamiamole così avevano una macchinetta elettrica una cosa grossa così e poi una bellissima gamba di celluloide rigida su cui steddevano la calza da rimagliare e poi riprendevano maglia dopo maglia e la calza era quasi come nuova insomma poi vabbè calze di nylon anche perché le calze di nylon dell'epoca avevano la riga in mezzo delle donne per cui bisognava rimagliarle in modo particolare in maniera che la riga restasse e chi invece non era in grado di comprarsi le calze di nylon o le calze comunque si dipingeva la riga sulle gambe che era una cosa meravigliosa erano gli anni della voglia di vivere dopo la guerra insomma ho perso il filo non ti avevo chiesto del cinema del cinema c'erano sempre le cassiere le cassiere erano tutte donne e donne ripeto ripensandoci dopo naturalmente emancipate perché finivano tardi di lavorare alla sera quindi ma io mi chiedo alla maestra ah la maestra lo sapeva che andava al cinema tutte le sere no non glielo dicevo la maestra mi aveva già minacciato l'inferno non so una roba di questo genere quindi non mi pareva tanto il caso insomma no non mi aveva minacciato l'inferno però aveva detto che Dio mi avrebbe reso conto mi avrebbe richiesto conto di una manchevolezza allora niente terza elementare si facevano le divisioni con la virgola al dividendo e al divisore no no anche se le scuole avevano non so le classi erano di 30 alunni vabbè terza elementare compito in classe sulle divisioni però una maestra che peraltro era brava poverina cioè mi ha insegnato un sacco di cose dice però il primo risultato è quello che conta che è una stupidaggine stavo per dire altro nel senso che se tu ti accorgi che hai fatto un errore e te lo correggi è ancora meglio che se se di quando ti viene ma non ti sei accorto del dove ti eri sbagliato se ti sei sbagliato vabbè insomma ricordate io non ho messo di cancellare di correggere il primo risultato è quello che conta io ero bravina ho fatto in fretta le divisioni poi mi sono accorta che una era sbagliata e quindi ho preso la gomma ho cancellato c'erano c'erano quei quaderni di carta del dopoguerra quindi bastava sfregare così che andavi già nell'altra pagina insomma nella pagina precedente per cui corrego il risultato ma anche un cieco avrebbe visto che avevo cancellato e non avevo seguito gli ordini e comunque la maestra poi raccoglie questi fogli e li sfoglia uno per uno senza correggere li sfoglia uno per uno però poi si imbatte in uno che aveva una cancellatura grosso come una casa per cui fa uno sguardo neutro verso il fondo della classe dell'aula e dice se qualcuna era classe tutta femminile se qualcuna di voi ha cancellato il risultato Dio gliene chiede racconto nella valle di Giosafat madonna l'ho sognato insomma madonna non si deve dire comunque l'ho sognato per mesi o forse per anni poi mi sono resa conto che insomma forse Dio con tutto quello che aveva da fare sulla mia cancellazione cancellatura delle divisioni non avrebbe detto niente no comunque il fascino della periferia come il fascino del muro sbreccato insomma come il fascino di quello che non è perfetto che tu capisci la meraviglia dell'imperfezione insomma però è una cosa abbastanza come dire personale per dare un'idea anche proprio della scrittura abbiamo detto che c'è questa coppia Linda e Oreste Oreste il camionista e Linda però aveva una famiglia molto più poi il marito aveva combinato dei casini insomma dei pasticci economici e la famiglia non diciamo di più era decaduta decaduta tra gli aiutanti di Oreste si il suo compagno di il suo compagno di camion di camion è Florin Rumeno questo Florin Rumeno è il mio personaggio preferito e a un certo punto ha un sogno come tutti di avere una stanza tutta per sé allora il dialogo è particolare Oreste Oreste tu hai amico che affitta a me una stanza i bambini non pronunciano le doppie se non conoscono bene si decide a chiedere Florin dopo lunghi ripensamenti una stanza dove dove lui ce l'ha questo cinese aveva molte stanze te ne vuoi andare va dopo te ne vuoi andare da dove stai sì troppo casino già siete in tanti e qui è sublime sì o no sì e no Florin lo guarda stranito la scarsa conoscenza di una lingua rende difficile la comprensione da noi a Elegyu non c'è sì e no solo sì o no sì e no invece da noi c'è tu spieghi sì se offre qualcosa in cambio altrimenti no e no io pago affitto non è così semplice non basta Florin fa gli occhi da cane Oreste si commuove un po' conosco uno che forse sì tu gli hai parlato per me a un'autoficina ripara macchine punto interrogativo certe volte i clienti hanno fretta i pezzi di ricambio non arrivano non chiaro riflessi pronti solo nella guida per il resto freno a mano innestato penso Oreste allora bisogna procurargli gli sti pezzi rubare bravo ci sei arrivato tu gli procuri i pezzi e lui ti abbuona l'affitto abbona mi fa abbonato te lo fa pagare poco mi fai conoscere lui ma tu sei capace a rubare le macchine e poi sublime imparo Florin finalmente dopo tante vicende che non vi diciamo ha finalmente la sua stanza che bello aprire la porta di un appartamento che mio mio pensa Florin nella sua lingua è emozionato e vorrebbe sfogare l'effervescenza che sente in corpo ballando e cantando facendo le capriole come da bambino invece si accontenta di schiacciare l'interruttore generale della luce e subito parte il ronzio del piccolo frigo che funziona davvero come quando l'aveva approvato poco tempo prima con areste e anche l'acqua sgorga dal rubinetto dell'angolo cucina da quel bagnetto dallo sciacquone e dal diffusore della doccia il cinese non l'ha fregato anche se nel lungo viaggio verso il nord della Germania e nelle varie tappe al ritorno per caricare e scaricare merce gli ero spesso balenato non solo sospetto terribile di trovare l'alloggio occupato ma di trovarlo diverso da come lo ricordava e cioè devastato e in disarmo sì c'era polvere perché la portafinezza che dà sul balconcino chiude bene ma ci penserà domani a sistemarla a finire il trasloco delle cose insieme al compagno di lavoro che è un amico l'italiano più bravo di tutti che ha conosciuto contento chiede Oreste sorridendo per l'entusiasmo di Florin tanto tanto grazie risponde Florin e aggiunge a mezza voce cenoroku amavut che fortuna che ho avuto allora io mi chiedo questo uso che tu hai sempre o del dialetto o anche diciamo dell'eufonia di queste lingue è una cifra della tua scrittura ma è una scelta più che altro nel senso che se fai un testo molto dialogato o usi il tuo linguaggio cioè quello che viene chiamato il linguaggio autoriale cioè quel linguaggio che tu useresti in altri ambienti o termini non riferiti a certi personaggi oppure li devi un po' far parlare come parlano cioè devi usare il linguaggio mimetico dei personaggi se no risultano proprio poco credibili insomma se si esprimessero in italiano forbito questi questi che incontri Florin anche il cinese vabbè il cinese è nato in Italia però e quindi parla bene insomma in sostanza già appreso sin dalla nascita il linguaggio la lingua italiana italiana con delle caratteristiche naturalmente insomma questa è la mia teoria che il personaggio se tu esci dal personaggio borghese dal personaggio se tu esci dalla prima persona a me non piace affatto scrivere in prima persona cioè mi piace riferire il pensiero dei personaggi attraverso quello che viene chiamato l'uso del discorso indiretto libero però li devi far parlare per me cioè io non riesco a capire un personaggio che parla con una lingua che non è sua in fondo un romanzo comunque una prosa narrativa è fatta di parole quindi il linguaggio è importante qui ho dovuto anche intervistare dei ragazzini perché raccontavo una storia di bande e quello poi di queste bande di ragazzi di 13 14 15 anni e poi quelle dell'età superiore di età un po' superiore 26 17 18 eccetera queste che adesso un po' in tutte le città medio-grandi ma anche in quelle relativamente piccole imperversano anche qui anche qui imperversano a o infastidire i passanti ma soprattutto a rubare a a pretendere l'occhiale firbato la scarpa firbata il giubbotto firbato va bene e allora non sapevo come i ragazzi più grandi cioè 16 17 18 anni chiamassero quelli delle bande di ragazzini più piccoli quindi quelli delle medie diciamo così quindi 12 13 quindi 14 anni e allora ho dovuto chiederglielo perché non lo sapevo e così ho imparato che i grandi chiamano i piccoli bimbo minchia che non mi sarebbe mai venuto in mente perché ma fai proprio degli studi filologici ma se devi raccontare come un ragazzo di 16 anni chiama un ragazzo di do babbino ragazzino di 13 come lo chiami bimbo minchia va bene non dici l'età ma stabilisci già un confide capito però ho dovuto formarmi questo libro è stato scritto dunque due anni fa alla fine della dunque è stato pubblicato a marzo però è stato finito dunque io vi leggo questa pagina sul Livore e su questi scontri dei bandi che potrebbe essere non so quasi un articolo di giornale due bandi rivali di Mirafiori Sud avevano deciso di misurarsi lontano da casa in campo neutro cioè nei giardini della ragna malefica l'umbilicus mundi di barriera i componenti erano di varie nazionalità italiani immigrati di seconda generazione nati in Italia Africa Asia Europa America Latina tutti uniti da una delusione e rancore profondo verso il paese natale e o quello di approdo pensiamo a Parigi gli scorsi weekend un ribellismo se credente io credo fosse un errore di creders ecco ecco io ho detto ma dico cosa vuol dire se crede un'altra cosa è che i nostri computer quando lei mi manda i pezzi io dico guarda che dovresti mettere questa virgola eccetera nel suo computer c'è nel mio no quindi andiamo avanti pomeriggi perché come dire passiamo molto tempo perché non siamo capaci a fare il minimo che viene richiesta antirazzista sgangherato e precario del segno del rifiuto di ogni regola pronta a trasformarsi nel suo posto alla minima convenienza al primo sbalzo morale famiglie più o meno disastrate spaesate e fragili estranea tutti quegli aspetti della contemporaneità indifferenti al rispetto di ogni patto sociale livore 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 il verde livido del livore a colorare la vita prepotenza quello che serve o si desidera lo si arraffa l'allacciamento abusivo dell'elettricità l'appartamento delle case popolari il posto macchina rispetto agli altri le tasse non si pagano le multe si stracciano il cano pisce caca dove gli pare l'immondizia si abbandona in strada orizzonti chiusi e soffocanti brutalità come sfondo comportamentale a scuola ci sono andati poco sia i genitori sia soprattutto i figli e le figlie e comunque la scuola ha fallito il suo compito e non è riuscita a interessarli hanno 16 17 18 anni non lavorano non fanno sport trascorrono ore sui social si incontrano verso sera di sera negli spazi con un po' di verde vandalizzano panchine distruggono altalene giostrine per bambini scippano fracassano vetrine arraffano quello che trovano specialmente roba griffata ogni tanto giocano alla guerriglia urbana non alla rivoluzione neppure una vera guerra proprio a una guerriglia senza la luce di un ideale uno sfugatoio di infelicità e di eccesso di tosterone o estrogeni non hanno visto West Side Story o 1961 o 2021 o non l'hanno capito mai sentito nominare Shakespeare o mero figurarsi non sognano storie d'amore casomai sesso predatorio gli piace minare gli piace il duello corpo a corpo di pretesti per la violenza fisica ce ne sono quanti se ne vuole ecco questa è una delle pagine più dure di brava gente questa attenzione forse perché tu hai segnato a lungo proprio in queste aree però non era così non era così gli scontri tra ragazzi che magari giocavano al pallone nello stesso spiazzo ci sono sempre stati ma così come la riga che è uscita a scuola e c'avevi la riga nella cartella gliela davi in testa o te la prendevi in testa da qualcun altro che ce l'aveva con te cioè non è che fossero tutte infanzie da piccolo lord insomma o da non so questi testi falsissimi per l'infanzia che si usavano allora cioè io parlo della mia infanzia sempre tutti lacrimosi sempre tutti con bambini con disperazioni acutissime a partire dai racconti bensili di cuore che peraltro è un libro che ha avuto dei grandi meriti pedagogici eccetera però insomma erano momenti diversi poi la scuola taglia risorse taglia risorse finita un po' come la sanità sostanzialmente no? cioè è fallito ha fallito il suo compito c'era un letto oggi su venerdì di repubblico un articolo abbastanza bello di Michele Serra sulla scuola proprio e cioè allora ma tu non puoi per anni non misurare cioè fare questo patto scellerato ti pago poco però non ti controllo è chiaro che ti pago poco e allora io nelle altre ore faccio qualcos'altro ma che sto lì appassionarmi ai ragazzi facciano i fatti loro imparano bene non imparano li boccio non è scuola è molto dura così sulla scuola sulla scuola di adesso sì anche se ci sono perché va detto molti giovani che poi invece sputano l'anima però mi dispiace di fare un discorso antifeminista però lo faccio molte donne della mia generazione o delle due generazioni successive erano donne che avevano scelto quel lavoro lì perché era conciliabile con il ruolo di madre di moglie senza eccessivo spargimento di fatica eh diciamocelo ti pago poco però due mesi e mezzo non fai niente la scuola fai la stessa lezione per 30 anni ti cambiano gli allievi ma tu usi sempre la stessa lezione ma certo che se insegni matematica ma è il modo che è diverso cioè non puoi però non tutti forse gli insegnanti certo che non tutti no non tutti ma c'è stato un progressivo decadimento capisci ma quello è evidente quello è evidente ma se insomma ai test invalsi siamo sempre i peggiori d'Europa non lo so ci sarà una qualche ragione no oppure se non so un ragazzo dico ragazzo ragazzo fa lo stesso adesso per fortuna le ragazze entrano in competizione un po' di più non solo a menare ma anche a studiare vabbè se un ragazzo non è in grado di sintetizzare 30 righe di una cosa che ha letto al termine di quella che dovrebbe essere la scuola dell'obbligo cioè fino in 15 anni ma che tipo di educazione le abbiamo dato cioè di educazione scientifico letteraria eccetera eccetera cioè vuol proprio dire che c'è stato un inabissamento poi ci sono le eccellenze certo meno male che ci siano le eccellenze ma è il livello medio che non tiene o il livello medio basso che non tiene e pensa che in certe aree 10 e mezzo abbiamo ancora un quarto d'ora poi ci cacciano in certe aree anche torinesi naturalmente ci sono gli educatori di strada no che devono andare a beccarsi questi ragazzi che non hanno finito il compito scolastico però poi se l'obbligo scolastico però poi se li beccano se li segnalano ma c'è qualcuno che dopo li obbliga ad andare o ci sono delle soluzioni alternative a livello ripeto sempre delle città medio-grandi dove le cose sono più difficili per cercare di reinserirli nel circuito scolastico per cercare che non si disperdano che non facciano questa vita del imparare solo imparare tra virgolette solo dai social ma certo che ogni città è uguale all'altra però non lo so la zona di Quartogiaro a Milano non credo che sia tanto meglio di periferia della da noi da noi da noi a Torino ma poi anche lì non tutte le periferie sono uguali perché per esempio quella di Borgo San Paolo è diversa è molto è molto diversa non ci sono questi fenomeni ma allora cosa vuol dire non è che Borgo San Paolo sia abitata da primari degli ospedali da avvocati di grido no era una periferia operaia artigiana eccetera adesso un po' cambiata anche lì ma cos'è cos'è che è cambiata la scuola sono caduti i principali riferimenti educativi non lo so comunque quando noi eravamo giovani di ragazzini che non studiassero o non imparassero un mestiere perché allora si imparava il mestiere prima il mestiere artigiano eccetera eccetera ce n'erano tanti no non tanti c'erano quelli che in dialetto si chiamavano iligera o milanese credo iligera e cioè quelli che si presumeva che poi avrebbero avuto una vita accidentata tra piccolo crimine crimine medio insomma ti dicono i reati sono diminuiti forse sono diminuiti gli omicidi può darsi tra dei femminicidi e va bene però i piccoli reati quelli che minano la convivenza allora via della consolata Torino è una via bella che poi va a finire in corso in corso regina va bene ed è una via ancora di negozi durante una di queste manifestazioni assurde hanno divelto tutti i tombini e hanno spaccato tutte le vetrine ma anche lì la vetrina di una gelateria ma perché cioè cos'è rivolta ma rivolta per cosa è livore è livore cioè non è vado lì e gli rubo i gelati no è solo gli spacco la vetrina cioè che è diverso e che è diverso quindi ti rendi che c'è un tasso di livore e di disagio perché poi il livore nasce dal disagio che forse la politica non è riuscita a intercettare o comunque a a proporre soluzioni accettabili faccio ancora perché ci buttano faccio ancora una domanda su Debbie che come sai è il mio personaggio guida allora Debbie è la mamma di Debbie Linda Debbie ha come lettura guida quei giornaletti che vi danno la metropolitana Lego si chiamano quei nomi lì metropolitana bate dei tram degli autobus eccetera e la mamma invece si ritrova ancora dei vecchi volumi di Angelica la corta del re diciamo che questa è letteratura di serie B C Z ma perché tu come la consideri di serie Z se parliamo di critica letteraria però se leggi secondo me qualunque cosa lega ma non è che sia un'idea mia originale ecco lo diceva trent'anni fa era bello l'articolo di Davide Ferrario era bello l'articolo di Davide Ferrario sul Corriere della Sera questa settimana scorsa l'immagine ti colpisce di più però l'immagine sbiadisce la parola in qualche modo lascia un segno anche se legge Angelica alla corte di Luigi XIV con delle svenevolezze delle cose ho fatto due o tre citazioni non si sono arrabbiati era in te Versailles era in Trisa di quei vapori letteratura che dici ma neanche che adesso sta di nuovo tornando di grande moda con tutti questi libri che vengono venduti solo in edicola non in libreria perché sono libri di quel genere sono ambientati ai giorni nostri eccetera eccetera va bene però la parola lascia sempre un segno fa un tarlo è come un tarlo che poi in qualche modo e Debbie è salvata diciamo così Debbie che all'inizio Debbie cambia molto cioè cambia abbastanza non molto dall'inizio del libro alla fine Debbie è salvata dalla lettura di questo storia che riguarda Torino perché Torino è al centro del libro e cioè era una grande diva hollywoodiana degli anni 50 perché questo non l'hai detto l'Anna Tarno cosa c'entra con Torino perché l'Anna Tarno era venuta a Torino con il suo uomo dell'epoca che poi ha sposato a Torino nel 1953 e tutto verificato beh beh certo racconto una storia notissima e poi l'Anna Tarno è stata lei e la figlia l'Anna Tarno ha avuto sette mariti con vari interbezzi di altri eccetera e a un certo punto era l'amante di un gangster italiano Johnny Stompanato mafioso italiano e si prendevano si lasciavano si menavano in parte era anche cinema a favore dei giornalisti a favore dei fotografi era la diva più pagata di Hollywood eccetera viene a Torino perché il suo compagno dell'epoca che poi sposa a Torino Lex Barker bellissimo era l'attore che aveva sostituito Johnny Weissmuller nell'epopea di Tarzan insomma quindi il nuovo Tarzan e Johnny Weissmuller stava girando Lex Barker stava girando a Torino due film perché nel 53 Torino produceva ancora molti film era stata la la cool del cinema poi il regime fascista che aveva capito naturalmente l'importanza come mezzo di comunicazione del cinema aveva voluto trasportare tutta la produzione a Cinecittà però a Torino nel 53 c'erano ancora alcune case cinematografiche come la Fert che produceva film allora il compagno di quei tempi di Lana Turner che era Alex Barker sta girando due film a Torino due film salgariani uno i misteri della giungla nera e l'altro che riguardava Treman Nike non so più però non ricordo il titolo credo di averlo citato giusto cioè l'ho citato giusto perché l'ho cercato e quindi vengono a vivere a Torino poi però questa storia che lei legge su questi giornaletti va avanti e racconta e racconta di un processo in cui sono state coinvolte Lana Turner e la figlia Cheryl punto non raccontiamo il resto allora chiudiamo invece con una parentesi rosa anche se tu hai il cuore cattivo e l'incontro della vedova Caterina col suo caro amato Arturo che è un pezzo invece di grande tenerezza si trovano con la badante le badanti eccetera e la russa ucraina moldava e debbi si ritirano torneranno più tardi a riprendere a riprendere i rispettivi badati ad aiutarli a salire a scendere dai taxi seduta di fronte Caterina e Arturo sono obbligati non solo a guardarsi in faccia sono al ristorante sono al ristorante ma a superare l'imbarazzo e la difficoltà di accettarsi così come sono ora nei decenni in cui non si sono più incontrati erano rimasti quasi mutati nel ricordo qualche ruga immaginata i corpi meno agili e svelti forse appesantiti oppure scarniti ma sempre riconducibili a quelli dei ragazzini di Lanzo e poi ai giovani di quei mesi di passione bellissime tormentati a Torino e dura cara e dura Kate sì ci siamo sopravvalutati sarebbe stato bello invecchiare insieme e non accorgersi dei cambiamenti la voce però non l'hai cambiata cominciamo con un brindisi io direi che basta vi ringraziamo di aver avuto pazienza fino adesso se per caso ci sono delle domande guardiamo contro luce se no Margherita è qui il libro in vendita vi può fare una bella dedica e ringrazio Margherita che è arrivata io ringrazio te vabbè queste sono le solidarietà femminili va bene anche se io non sono vabbè basta niente non diciamo siamo un po' brusche grazie a tutti grazie grazie rimaniamo d'accordo per domani madame quando ci vediamo per le 8-5 8-10 a casa sua va bene come orario sì direi di no va bene poi è lì vicino e facciamo